Violenze inaudite, minacce continue e punizioni inumane le ha subite per anni una 35enne di Pagani in provincia di Salerno, picchiata e maltrattata dal compagno di 36 anni anche quando era incinta. Aggressioni con calci e pugni quando era in attesa del figlio che hanno procurato alla donna, un trauma cranico ed ematomi sul corpo. Ma questo è soltanto uno dei tanti episodi raccontati dalla vittima ai carabinieri che poi hanno portato alla condanna 5 anni di reclusione per l'ex compagno. Le ritorsioni brutali scattavano anche se la donna usciva senza avvisarlo e in un'occasione dopo averla inseguita in strada le ha bruciato i capelli con un accendino. In un'altra occasione l'uomo aveva tentato di soffocarla con il cavo del cellulare. Le violenze erano praticamente all'ordine del giorno accompagnate sempre da ingiurie e minacce. Quando l'uomo seppe che la compagna era incinta immaginando che il bambino fosse di un altro l'aveva stretto una cintura al collo minacciando di ucciderla. La 35enne ha raccontato anni di mortificazioni continue anche economiche. Spesso infatti veniva lasciata senza cibo per una settimana, altre volte le venivano dati 5 euro per fare la spesa per sette giorni e se provava a chiedere soldi anche solo per necessità del bambino veniva picchiata. Quando ha trovato la forza per raccontare ai carabinieri quanto le accadeva soprattutto per il timore che potessero esserci rischi per il figlio, la 35enne si è liberata da un incubo. L'ex compagno oltre ai 5 anni di reclusione è stato condannato ad una provvisionale di 10.000 euro.